Noi siamo il Bardomagno, siamo musicisti e scriviamo musica con temi medievali. Veniamo da Aquisgrana. Da dove? Da Aquisgrana, sud. Aquisgrana, beh. E cosa è suonata, immagino, quindi? Stasera proponiamo un brano che parla di un tema fondamentale che abbiamo a cuore tutti noi, lo schiaffo di Anagni. Lo schiaffo di Anagni, per chi non lo sapesse... Sì, trasferimento del Papa da Vignone. Esattamente. Lo schiaffo di Anagni è stato il primo evento ad opera di Filippo di Francia di Valois nel 1303, che come reazione della bolla papale decise di invadere Avignone contro il Papa e diede questo schiaffo. Sì. C'è un dilemma storico su questo evento, non tutti sanno se questo schiaffo è avvenuto davvero. Noi eravamo lì e quindi abbiamo scritto questa canzone. Siamo curiosi? Avete 100 secondi. A questa! Le gare salpano, li papi fuggono, quelfi e papisti che in Franza si esiliano dall'eterna urbe. Il Papa fuggirà, ciarlami di esilio e della sua cattività. Un potere papale, un'aquila reale, un gatto, un topo, un elefante. Tra pochi lustri, tra pochi lustri, sotto il sole, sotto il sole, di Avignone, di Avignone, quasi quasi mi vento, vedi il Yeah Zile o vai tu. Faccio a schiaffi, faccio a schiaffi, ad Anani, ad Anani ne prendi. Vedi il Yeah Zile o vai tu, vedi il Ja Zile o vai tu, vedi il yeah Zile o vai tu. Sotto un cielo, sotto un cielo, chi bellino, chi bellino, non fare il saracino, tipo il diverbo. Faccio a schiaffi, faccio a schiaffi, ad Anani, ad Anani, ne prendi. E dine si l'hova tu, e dine si l'hova tu, e dine si l'hova tu